In questo fine settimana in studio Valentina Bisti. Valentina. Grazie Marco, sarà un sabato pomeriggio uggioso con celli coperti su gran parte del paese ma andiamo verso un lento miglioramento. Le temperature sono diminuite di qualche grado ma è un calo solo temporaneo. Allora vediamo cosa succede nelle prossime ore al nord. Ancora qualche temporale sui monti e poi su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Pioverà ancora un po' al centro tra l'Appennino e le Marche. Al sud qualche pioggia su Campania, Basilicata e Calabria. Va meglio su Sicilia e Sardegna. Domenica avremo più sole che nuvole. Un consiglio, meglio organizzare una giornata al mare perché in montagna sarà più facile trovare ancora un po' di pioggia. È tutto, a te Marco. Grazie Valentina. Un sorpasso storico.